Presidente Augusto Recchia, allora non più Civitella Colormax, Colormax rimane, ma Colormax Pescara. Sì, da quest'anno abbiamo trasferito la sede legale, quindi tutta l'attività sportiva qui a Pescara per tutta una serie di motivazioni, sia per cercare di riunire tutte le varie categorie che disputiamo, quindi dalla scuola calcio a salire fino alla prima squadra, e sia perché io da Civitellese Doc non posso dire che mi dispiace questo cambio denominazione, però oramai la favola del Civitella, del paese più piccolo, del comune più piccolo, non ci possiamo vivere di rendita. Ci stiamo approcciando a degli sponsor, a delle aziende a livello nazionale e sinceramente quando ti approcci a questa realtà col nome di Civitella è veramente poi difficile portare a casa il risultato, quindi per tutta una serie di motivazioni siamo stati costretti, tra virgolette, a fare questo passo, ma siamo ben felici di stare qui a Pescara, ringrazio il sindaco Carlo Masci che dall'inizio ha sposato questa nostra iniziativa ed è molto contento di riportare una squadra di serie a Pescara. Stefano Mammarella, all'inizio della sesta stagione sono veramente tante, però con l'acqua e il sapone Onigros è sempre, come si dice, un piacere giocare, partecipare e possibilmente vincere. Sì, per me è un onore far parte di questa formazione anche quest'anno, di questa società, perché vado al sesto anno della mia carriera qui con l'acqua e il sapone. Ho tanta voglia di dare, tantissimo, perché dopo la beffa dell'anno scorso ci vogliamo rifare subito. C'è subito l'opportunità per rifarsi, perché la Supercoppa è a metà settembre. La tradizione dice che la nostra formazione fuori casa ha la meglio sulle altre, però se andiamo a vedere il Pesaro se è anche rinforzata sarà una battaglia fino al quarantesimo, se non oltre, credo.